Atilio Fontana, governatore della regione Lombardia, con un margine di vantaggio pare più ampio di quello che davano i sondaggi e di quello che davano la prima proiezione. Beh, grande soddisfazione, i numeri non sono ancora definitivi, quindi non faccio nessun tipo di valutazione, sono contento che comunque evidentemente i Lombardi abbiano apprezzato la proposta di regione che ho in mente e che ho faticosamente cercato di trasmettere loro girando, incontrando tante persone, incontrando tante associazioni, incontrando tutti quelli che avevano da esprimermi un loro punto di vista. Un messaggio per Varese e per la prealpina che è il giornale di Varese? Beh, il messaggio per Varese è che è sempre nel mio cuore al primo posto, la prealpina magari un po' meno perché è soltanto una parte di Varese, ma è chiaro che come stampa è stato e sempre sarà un punto di riferimento, quindi la prealpina potrà con me avere un rapporto assolutamente privilegiato.